Più di una dozzina di autobotti che con una media di circa un centinaio di viaggi giornalieri portano l'acqua potabile a più comuni dell'entroterra. A queste si aggiungono le molteplici ordinanze emesse dai comuni per garantire il corretto e razionale uso dell'acqua. Situazioni che descrivono alcune delle azioni adottate per fronteggiare l'importante emergenza idrica che ha colpito l'intero territorio provinciale pesarese. Ato, assemblea ad ambito territoriale ottimale, è l'ente composto dall'assemblea dei sindaci della provincia di Pesaro e Urbino che pianifica e controlla l'attività dei due gestori della provincia, Marche Multiservizi e Aset, nel settore del servizio idrico integrato. In riferimento all'emergenza riscontrata, il presidente Ato, Marco Ciccolini, ha analizzato le criticità riscontrate dal sistema di approvvigionamento idropotabile provinciale. Il nostro sistema di approvvigionamento idrico è abbastanza debole, abbastanza debole perché si basa principalmente sulle acque di superficie, sui fiumi, sui torrenti. D'estate hanno meno portata, hanno meno acqua e di conseguenza andiamo in difficoltà. L'aumento dei consumi che c'è stato in questi anni, ma oltre a questo consumo maggiore, abbiamo un cambiamento climatico importante, lo vediamo anche in questa estate. E questo ci crea dei seri problemi. Avremo l'esigenza di differenziare l'approvvigionamento idrico, abbiamo l'esigenza di non essere dipendenti solo dai torrenti, dai fiumi che d'estate hanno meno acqua. Tra le misure adottate per superare i periodi emergenziali e i limiti riscontrati dal sistema di approvvigionamento, Ato ha attivato l'utilizzo di falde sotterranee, in primis il Pozzo del Burano e da quest'anno per la prima volta anche quello di Sant'Anna. La situazione è una situazione del tutto analoga, se non addirittura più grave rispetto a quello che si è rappresentata nel 2017, quindi una crisi molto pesante alla quale stiamo al momento rispondendo bene. Rimane una situazione critica intanto sull'interconnessione degli acquedotti che ereditiamo dalla storia. Una volta i gestori che operavano sul territorio erano indiversi, quando abbiamo iniziato la nostra attività nei primi anni 2000 erano presenti 7 società di gestione e 15 comuni in economia e ognuno praticamente si era creato il proprio parco infrastrutturale. È una situazione che adesso come adesso si rivela anti-economica e poco efficiente e quindi cerchiamo di introdurre un'economia di scala anche nella gestione delle infrastrutture, così poi come ci richiede la normativa. Tra gli interventi più a lungo raggio c'è invece il progetto di realizzazione di un invaso, tema centrale dell'Assemblea dei Sindaci che Ato convocherà a settembre. Da agosto dell'anno scorso si è aperta una possibilità, una possibilità che è arrivata direttamente dallo Stato con finanziamenti del piano invasi e altri finanziamenti europei. L'anno scorso, proprio in agosto, è arrivata una sollecitazione dalla Regione proprio per la possibilità di creare infrastrutture di questo genere. L'Ato ha convocato l'Assemblea dei Sindaci e l'Assemblea dei Sindaci ha dato mandato di verificare questa ipotesi. Questo primo studio ci permetterà poi di andare avanti. È chiaro che il mandato deve essere dato dall'Assemblea dei Sindaci che noi riconvocheremo a settembre. e poi chiaramente questo eventuale invaso o struttura dovrà essere anche pianificato negli strumenti regionali.